L'integrità interiore Per la prima volta nella tua vita sei in grado di dire Sì, io sono questo, non me ne vergogno Questa è l'unica verità Io sono sincero Questo è anche l'ultimo passo In seguito tutto è automatico Shri Bhagavan Lo strumento più potente per la fioritura del cuore È la verità Shri Amma Bhagavan Iscriviti al nostro canale